La situazione meteorologica sulla nostra regione per il fine settimana vedrà ancora permanenza di alta pressione che lascia il campo sgombro sostanzialmente da nubi. Vi sarà solo un invecchiamento se vogliamo di questa alta pressione successiva ritirata verso sud quindi permettendo le correnti atlantiche di avvicinarsi all'arco alpino. Vediamo per sabato la previsione, c'era in genere sereno poco nuvoroso su pianura e costa, qualche nube in più a quota medio-bassa tra 1000 e 2000 metri in montagne speciali sulle prealpi ma sostanzialmente non cambia le cose del profilo termico con temperature che possono toccare i 30 gradi in pianura 27 mediamente sulla costa con 20 di brezza. Domenico una giornata caratterizzata da maggiore variabilità in montagna ancora per nubi basse sostanzialmente e più frequenti sulle prealpi qualche nuvolamento anche pianura più sole sulla costa brezza temperature scendono di un grado circa come anche salgono di 1 le minime e per quindi minore escursione termica per l'umidità. Anche lunedì tempo stabile ma con qualche nube in più forse anche qualche foschia inserata sulla pianura non escluso anche qualche goccia di pioggia in montagna in giornata martedì forse passa un fronte da nord ovest che potrebbe determinare qualche pioggia rovescio specialmente sui monti e verso est nella seconda parte della giornata con un po di vento da sud. Temperature vediamo sono scese ancora scenderanno ancora nei valori massimi e quindi alla fine di in 5-6 gradi più basse rispetto a quelle che registriamo in questi in questi giorni. Direi che è tutto un buon fine settimana da Toru Pucillo.